E bella boys, benvenuti su questo nuovissimo video. Che dire ragazzi, questa arma nuova silenziata è allucinante. Cioè, vi assicuro ragazzi che non ho mai provato un'arma così potente su questo gioco. È letteralmente un laser ed è divertentissimo da utilizzare ed è veramente, veramente forte. Ragazzi, spero che voi possiate apprezzare questo video. Ho fatto 18 bombe, quindi direi davvero un gameplay pulito. È molto bello, a parer mio ovviamente. E fatemi sapere se vi piace ragazzi, lasciando un bel mi piace, un bel pollice in su ragazzi, che aiuta sempre il canale. Inoltre ragazzi, ci stiamo avvicinando ai 100k di iscritti ragazzi. 100k in pochissimi mesi. Ci stiamo arrivando, grazie al vostro aiuto. Per questo ragazzi, vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto. E di attivare la campanellina per ricevere la notifica ogni qual volta pubblico un video. Detto questo ragazzi, in descrizione trovate i link per i miei social e per le mie live streaming. Guardatevi il video e buona visione boys. Oh, yeah boy. E la madonna. Ah, c'è meglio. Ok, perfetto. Va bene. Qua ragazzi, se muoio, mi stacco la testa. May I take this tactical shotgun, please? Thank you. Shield the piece. Shield the piece. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Ok Nice try baby Ok Dove stanno questi qua che si sparano? Oh Madonna quanti sono lì ho? Oh Gesù Ragazzi sono tantissimi Non più Ok 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.